Buongiorno a tutti, sono Luca Micheletti. Sono felicissimo di tornare qui al Maggio Musicale, quest'anno dopo le nozze di Figaro, l'anno scorso in cui ero Figaro, come Don Giovanni, quindi un nuovo grande protagonista mozartiano. E' un ruolo a cui sono molto legato e che quest'anno incontro per la terza volta, dopo aver aperto la stagione di Covent Garden ed essere stato diretto dal maestro Muti a Torino. Ora un nuovo grande incontro col maestro Meta sul podio. Personaggio che ogni volta che si incontra non si finisce mai di scoprire, si dice sempre, ma è sempre vero, probabilmente perché ha una storia così stratificata. Don Giovanni viene da lontano, viene dal teatro di prosa, ma prima ancora viene dalla tradizione addirittura del teatro di Burattini, della Comedia dell'Arte, prima ancora appunto del teatro dei Fantocci, perché è l'anima del dissoluto che a un certo punto viene punita perché non si pente, è l'ateista fulminato come vuole una tradizione. E' proprio questo il cuore del Don Giovanni e anche di questa produzione, in cui sono tutti già morti. Vedete, io sono in mezzo alle statue, in una sorta di cimitero già dalla prima scena. E il rapporto che si vuole innescare fin dall'inizio non è quello di un donnaiolo con le sue vittime, ma si vuole indagare il rapporto di Don Giovanni con Dio, o meglio con il Dio che lui è convinto che non esista. E quindi la sua lotta è proprio quella di un ateo contro chi crede, qualcuno che sfida il soprannaturale fino all'ultimo grido, fino ad arrivare appunto a quel no fatale che lo conduce all'inferno, ma anche di fronte all'inferno Don Giovanni rifiuta di crederci. E' quindi un personaggio sicuramente pieno di forza, pieno di anima e che sfida la vita fin dentro alla morte. Le donne quindi cosa sono per Don Giovanni? Probabilmente gli strumenti per dissacrare il sacro. Essendo la donna tra le cose più belle del mondo, ecco che Don Giovanni sceglie proprio questa vittima sacrificale per dimostrare come la vita non valga la pena di essere vissuta, se non a livello materiale, se non a livello immanente. Personaggio grandioso che sono felicissimo di incontrare più volte nel corso della mia carriera e quindi spero che possiate con me seguirne le gesta anche in questo caso venendo al Teatro del Maggio Musicale. Grazie.